Tre nuove centraline per il controllo delle onde elettromagnetiche sono state posizionate in altrettanti punti della città di Andria. Un ulteriore passo in avanti per il monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico dopo l'approvazione del piano comunale che risale allo scorso mese di novembre. Ascoltiamo a tal proposito Antonio Mastrodonato, Assessore Comunale all'Ambiente e Qualità di Vita. Francesco Rossi. Assessore, è un momento importante per la città di Andria perché il problema delle onde elettromagnetiche è sentito moltissimo dai cittadini per effetto del numero sempre molto alto di impianti, soprattutto per la telefonia mobile. Oggi qual è il passaggio che fate? Allora, oggi si giunge al termine del primo percorso avviato con la vecchia amministrazione, con il vecchio Assessore all'Ambiente, il dottor Fucci, che ringraziamo ovviamente, che è quello relativo alla presentazione del piano di zonizzazione elettromagnetica. Col piano di zonizzazione, come già abbiamo visto nel passato, è stato fatto un catastro di tutte le sorgenti attive presenti nel territorio di Andria ed è stata poi elaborata una planimetria in cui si suggeriva al Comune l'installazione di centraline di monitoraggio in continuo perché ricordiamo che nel piano di zonizzazione sono state fatte delle rilevazioni, che erano delle rilevazioni puntuali al momento e che ovviamente erano suscettibili di variazioni. Quindi per poter poi successivamente analizzare l'andamento del campo elettromagnetico durante una fase temporale ben più ampia, rilevazione che avrebbe potuto dare poi delle risposte ben più precise, era necessario installare queste centraline. Centraline che furono acquistate successivamente dal Comune di Andria e che sono state finalmente installate. installate in tre posizioni, individuate in base alla presenza di sorgenti di emissione di campi elettromagnetici. È stato realizzato, grazie all'assessore Leonetti, un software che permette, interfacciandosi sul portale del Comune di Andria, permette di visualizzare in tempo reale quelli che sono le misure nell'arco della giornata, lo storico, a partire dal giorno in cui le centraline sono state installate. In questo caso tutte e tre sono state installate il 16 agosto e quindi possiamo avere già uno storico a partire dal 16 agosto. Qual è la situazione? Per ora non ci sono valori che superano i limiti stabiliti per legge. Era un risultato questo già visto con il piano di visualizzazione elettromagnetica. Il monitoraggio in continuo nei primi 15 giorni ha dato effettivo riscontro di quanto era stato già evidenziato col piano.